Ciao a tutti, oggi prepareremo la panna cotta con aspic di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 8 ore di riposo in frigo. Ingredienti sono per la panna cotta, panna fresca per dolci, zucchero, gelatina ammollata in acqua fredda, vanillina, per l'aspic fragole tagliata a pezzetti, acqua, zucchero, succo di limone e gelatina ammollata in acqua fredda. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna. Lo zucchero e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 80 gradi, velocità 4. Aggiungere la gelatina ben strizzata. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Trasferire in uno stampo per budini. Riporre in frigo e lavare bene il boccale. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale mettere lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le fragole. Le facciamo frullare per 30 secondi a velocità 6. Adesso cuocere per 4 minuti, 80 gradi, velocità 4. Adesso frullare per un minuto a velocità 8. Aggiungere l'acqua, il succo di limone e cuocere per 4 minuti. Aggiungere la gelatina ben strizzata. Aggiungere la gelatina ben strizzata. Per 30 secondi a velocità 4. Lasciare raffreddare completamente il composto. Il composto si è raffreddato, versiamolo sulla panna cotta. Dopo aver versato il composto alle fragole, mettiamo pezzetti di fragole. Riporre in frigo per almeno 8 ore. La panna cotta è pronta. Sformare e servire. Panna cotta con aspic di fragole. Grazie e alla prossima ricetta. Riporre in frigo per 4 minuti. Riporre in frigo per 5 minuti. Grazie a tutti.